guarda qua si registrano si sta registrando si sta registrando non peggio adesso 10 più conto che è che è andore che è andore che è andore guarda guarda Sì, ho capito, ho capito? Sì, ho sentito un attimo Pesante, è come le lunette Non vedeva quanto siamo arrivati Eh, quello è un po' caldo Però non siamo arrivati a 60 all'ora No? O perché c'è il manubrio che ti dà la sensazione che è più stabile Però l'altra volta a 60 all'ora Era molto meno stabile Qua vai più dritto Alla prossima Hai visto quanto mi sono stati E' chiuso Cosa l'hai chiuso? Tutto no Avrò fatto 6-7 metri Sì, è giù quello Ha, è giù quello Tu hai fatto passare avanti Eh? Ho fatto passare avanti . 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